Come costruire una storia, come costruire una scena, come costruire un sistema narrativo che ci consente anche di leggere le storie degli altri e di leggere e interpretare le storie vere, quelle che ci riguardano, anche per poter entrare in relazione con gli altri, con noi stessi e anche prestare a volte un aiuto a chi ha una storia complicata o a chi non sta accogliendo magari il momento che sta attraversando. Il cinema per me è sempre stata una guida in questo e ho scelto una scena di Revolutionary Road, una scena che io amo tantissimo, film di Sam Mendes con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio che interpretano Frank e April, una coppia veramente straordinaria che in quegli anni stava dando degli esiti cinematografici veramente superlativi. Allora direi immergiamoci nella lettura di questa scena, nella lettura tecnica di questa scena, per capire in che modo dalla lettura di una scena si possa ricavare anche un qualche elemento per leggere la vita. Eccoci nella prima inquadratura che ci dà l'ingresso nella scena di Revolutionary Road che forse più di ogni altra rappresenta simbolicamente tutto il film e la storia tra quest'uomo e questa donna, tra April e Frank. Siamo in macchina e questo è il primo sguardo che dobbiamo avere, dove si trovano i personaggi. Questo essere in macchina vuol dire una connotazione geografica, logistico-geografica della scena perché il dove ci troviamo delimita le aspettative che possiamo avere, delimita il campo di possibilità all'interno della scena. È molto difficile che vengano aggrediti da un ghepardo, dato che sono in un paese in cui i ghepardi non ci sono e sono chiusi in un'automobile. Questa riduzione di aspettative è molto importante perché lasciare aperte sempre tutte le possibilità dà come risultato una scena molto generica. Questa è una prima grande cosa da acquisire. Contestualizza, precisa, specifica le cose e quando osservi i film degli altri stai attento a come loro sono stati capaci di delimitare gli spazi, di delimitare le possibilità proprio. Il secondo elemento da osservare è un elemento biografico, cioè cosa stanno facendo in questo spazio. Stanno tornando a casa da una messa in scena terribile a cui lei ha dato vita, una pessima figura di fronte al pubblico del teatro e di fronte a tutta la città. Sono molto arrabbiati tra loro perché avrebbero dovuto uscire con degli amici ma lei, data la serata, non ha più voluto. Lui è molto risentito e molto scocciato per la figura che ha fatto a causa sua. Dunque l'elemento è il conflitto. Adesso se noi associamo il primo elemento al secondo, cioè siamo in automobile e c'è un conflitto, possiamo giungere al terzo elemento che devi sempre cercare di osservare all'interno delle scene dei film ben fatti e possibilmente costruire all'interno dei tuoi. E c'è l'elemento metaforico. Chi si trova dove e questo che cosa significa? L'elemento metaforico qui è dato dalla notte. È una coppia che sta viaggiando nella notte della sua relazione. C'è uno spazio tra loro che è lo spazio della relazione, quello davanti a loro, cioè dovrebbero guardarsi, diciamo, nella colonna dello specchietto, incrociare i loro sguardi nella colonna verticale dello specchietto, perché quello è lo spazio di relazione tra loro. Oltretutto possiamo vedere che dietro di loro, alle loro spalle, proprio sotto lo specchietto, ci sono i fari della macchina che segue. Anche i fari hanno una valenza metaforica, perché i fari sono riflettori e i riflettori sono gli occhi degli altri e sono quelli sotto i quali lei è appena stata molto umiliata. Guardiamo però com'è l'attitudine dei due attori. Frank tende a guardare April, guarda verso April, April fugge allo sguardo, cioè un tentare di evitare la relazione. Ma lei avverte lo sguardo di lui e si passa la mano tra i capelli, si prepara al conflitto, cerca di trovare delle forze dentro di sé, si aggrappa a qualche pensiero, non lo sappiamo, ma di fatto mostra un'inquietudine, una stanchezza e già l'aspettativa di qualcosa che verrà. Osserviamo come lui attacca il discorso. Lo attacca, guardate l'attitudine dello sguardo, è un'azione precisa. Non mettiamo in sceneggiatura, lui guarda verso di lei. Lui qua sta veramente sbirciando, sta sondando il terreno per vedere fino a che punto può arrivare a ottenere il risultato che vuole, cioè che lei dica ok smetto per sempre, senza pagare dazio, senza affrontare un conflitto. Perché lui non vuole affrontare il conflitto? Perché se è lei a dirlo è sicuro che il risultato è raggiunto, se è lui a imporlo è sicuro soltanto che è l'inizio di una guerra. Dunque prova con questa tattica, diciamo un po' paternalista, no? Comincia con dei complimenti, lei sa già tutto, guardate lo sguardo di lei, Lei non sta guardando a mezzo metro da sé dove c'è il cruscotto, lei sta guardando a chilometri di distanza, sta guardando tutto un passato e tutto un futuro che la aspettano. È chiaro che questo spazio centrale dello specchietto occupato dalla linea dello sguardo di lui è disabitato dallo sguardo di lei. E guardiamo poi adesso che cosa succede. Lei ringrazia, ringrazia e si volge con gli occhi verso di lui e lui scappa via dal cono centrale. Cioè è stata preparata al millimetro questa scena? Io credo proprio di no, non in questi termini. È stato preparato un fondo relazionale, è stata molto ben compresa la relazione che c'è tra i due, è molto ben capito il gioco che questi due stanno facendo in questa scena. Il resto, il resto viene da loro perché sono dei grandi, perché l'istinto li porta a questo. Noi possiamo osservare soltanto quello che di fatto è capitato. Non vorrei generare l'equivoco di dirigere gli attori dicendogli millimetricamente dove devono guardare, perché questo sarebbe un inferno, ma chiarire molto bene il gioco e affidarsi al loro talento. E in questo momento successivo vediamo che lui sta provando a impostare un ragionamento, no? Non avremmo dovuto lasciarti mettere in mezzo a questa roba, insomma, questo genere di roba, accidenti, questo è tutto, no? Ecco, lei questa cosa non la vuole sentire. Appena lui si riaffaccia, lei scappa via dal finestrino. E nel momento successivo lei lo rimbrotta. Ok, vedete che aumenta il livello di torsione del capo, cioè sta aumentando il tasso di conflitto. Adesso non basta più un'occhiata, adesso si volge verso di lui e lui guardate come si ripara assolutamente guardando fisso davanti a sé e quasi chiudendosi, no? Alla possibilità di incontrarla veramente. Cioè, sono due che stanno cercando di non litigare e lo stanno già facendo ampiamente. Lui prova ad alleggerire lo stato della conversazione separando lei da quel che ha visto quella sera lì. È una tattica, no? Dire siamo noi la squadra, siamo tu e io la squadra e tu sei fantastica come sono fantastico io. Quelli là sono quelli veramente brutti e cattivi che ti hanno messo in questa condizione. Cioè, sta cercando di strapparla dal suo mondo per portarla a sé e farne ciò che vuole lui. Naturalmente lei questo lo sa perfettamente e vedete che il ruolo si è di nuovo invertito. Lui adesso converge verso il centro dell'inquadratura, lei scappa dritta davanti a sé. Ma il carico si sta facendo eccessivo e adesso inizia il vero primo evento della scena. Lei ufficialmente chiede a lui di smettere di parlare di questa cosa. Cioè, possiamo per favore smetterla adesso di parlare di questo? È una richiesta esplicita. Da questo punto in avanti, se lui continua a parlarne, è chiaramente un conflitto. Infatti lui si defila subito al comparire di lei, lei rimane a guardarlo inchiodandolo e questo è il primo elemento di lieve convergenza. Vedete? Lui dice sicuro, sicuro, basta, ok, non ne parliamo più. Perché? Vuol dire che non riescono più a controllare questa situazione. Dunque vediamo che soltanto con le direzioni degli sguardi loro ci stanno dicendo che cosa sta davvero accadendo fra questi due. Dopodiché, invece, lui naturalmente viola questo patto, dice no, assolutamente, ricomincia a parlarne, spiegando perché lui vorrebbe parlarne. Semplicemente perché è preoccupato per lei, naturalmente. Questa riflessione sul valore che ha questa cosa, dice proprio non ne vale la pena, insomma, ha un certo peso dentro April. E infatti April abbassa lo sguardo e sta ascoltando il discorso di lui pur essendo in conflitto con lui. Mi raccomando, questa è una cosa fondamentale. Quando noi impostiamo le nostre scene di conflitto, le impostiamo sempre con dei beat di conflitto, esclusivamente di conflitto. Le scene di conflitto sono piene di beat di bisogno, per esempio. Sono piene di beat carichi di interiorità. Se noi è anche di fragilità, anche di sincerità, anche di solitudine. Noi di solito carichiamo tutto da una parte e le nostre scene spesso sono noiose, proprio perché sono piene di gente che grida, 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 ok? Invece ci sono tante sfumature, tanti passaggi che ci dicono enormità dei mondi interiori. Quando lui continua, insomma, dice, è già abbastanza difficile vivere così con questa gente qua intorno. Vedete che operazione sta facendo? Portare lei da una parte diversa. Lei guarda in alto a destra, alla sua destra, per noi a sinistra macchina. Guarda in alto a destra che è proprio l'indicazione di un personaggio che cerca un futuro da un'altra parte, che cerca una fuga, che sta immaginando di poter scappare, prendere il volo. Vedete com'è forte questa cosa di andare via. Più lui la unisce a sé, più lei diverge da lui. Attraverso questa millimetricità dell'acting, noi capiamo che sotto ci sono un sacco di cose. Lei risponde, si fa scappare un sì, va bene. Allora lui converge di nuovo verso di lei, dice, cosa hai detto? Ho detto sì. Ok, Frank, va bene. Stiamo proprio al limite della rottura. Vedete che adesso lui la punta in modo deciso e non intende andare via da lì. E anche quando lei risponde, ho detto sì, va bene, Frank, lui, è vero che con l'occhio controlla la strada e diverge, ma vedete l'attitudine del corpo? Ormai da questo livello indietro non si torna più. Stanno convergendo verso un conflitto. E infatti lei richiede per la seconda volta, e questa volta in modo più conflittuale, pesante, implorante, per favore, puoi smetterla di parlare di questa cosa prima di tirarmi matta. Quindi sta attribuendo a lui la causa del suo malessere. A quel punto per lui è arrivata la saturazione. Lo vedete che sbuffa, questo sbuffo è la fine di tutta un'arcata di tensione che lui ha messo in atto per tentare di non litigare. Ok, qui ha capito che non si può fare a meno di affrontare la discussione. Dunque a questo punto, a malincuore, lo vedete, c'è quasi un calo di tensione nella sua faccia, decide di fermare la macchina. Fa un'azione per cui dice, ok, bisogna tararsi su un altro livello. Qui siamo in una quasi somiglianza con la prima inquadratura, che vi voglio riproporre, del film. Perché guardate, lei guarda a sinistra, lui guarda quasi a destra, è divergente, che è molto simile alla prima, che era questa qui, al primo momento. E questo è il segno proprio di un nuovo grado zero del conflitto, cioè ricomincia un'altra unità. È un momento proprio dove ci sono degli sganci d'atto della scena, vuol dire che stiamo proprio cambiando atto della scena. A questo punto entriamo nel secondo grande atto della scena, che noi non esploreremo, ma che ci porta a dire che l'inizio ha sempre una qualità ricorrente. Attenzione a questa cosa, queste sono le punteggiature che ci sono all'interno della scena. Quando una scena ha un nuovo inizio, qualcosa ci ricorda come era iniziato il primo inizio. Entriamo all'inizio, diciamo, formale del secondo atto. Quando lei dice che cosa stai facendo, e lui comincia a far divergere l'automobile. Vedete che la camera stacca, andiamo in strada, vediamo la macchina uscire di strada, valore metaforico, geografico metaforico dell'inquadratura, e fermarsi fuori strada. Questo è veramente fondamentale. Tra l'altro sotto, che cosa? Sotto i riflettori. Siamo nell'ultimo posto in cui loro avrebbero voluto essere, cioè sotto i riflettori di tutta la città a mostrare il loro conflitto. E sono fermi, come noi ci troviamo fermi nelle nostre relazioni. Molto spesso, cioè fermi fuori strada, in piena notte. È la notte del senso, è la notte della relazione. Siamo frontali adesso, davanti a loro, perché anche noi siamo giudici di loro. Adesso loro sono in scena davanti a noi. Al tempo stesso, attenzione, perché i fari puntano noi. Questa è la complessità con cui Sam Mendes riesce a costruire le scene. Loro si vergognano, ma anche noi siamo sotto i loro fari. Questo non fa che aumentare la nostra sensazione di vergogna e di condivisione. E vedete come ricomincia lui a parlare? April, amore, dobbiamo parlare di questa cosa, ok? Lo fa ancora con dolcezza, ancora con paternalismo. Perché? Perché ricomincia l'atto. È iniziato così il primo, sta iniziando così il secondo. Ci porterà molto più lontano e chi vorrà vederlo può andare a farlo. Vi metto la scheda in sovrimpressione per andare a vedere questa scena di conflitto assolutamente meravigliosa. Ultima inquadratura che consideriamo. Questa è un momento centrale del loro conflitto. Loro si trovano addirittura sotto i fari della loro stessa auto, sulla Statale 12, con le macchine che passano e che li guardano. E anche qui, osservate bene, il piano geografico, l'abbiamo detto, a bordo strada. Il piano biografico, qui stanno veramente in una lite impiccata davanti alla loro macchina. Il piano metaforico, storia di una coppia che voleva essere brillante e che si ritrova sotto i riflettori a dare il peggio di sé nel buio della propria relazione. Bene, spero che questa lettura vi sia interessata e spero che vi abbia dato qualche elemento per in qualche modo costruirci una nostra griglia del mondo, una nostra griglia dell'esperienza, un sistema di lettura. E' molto importante avere dei riferimenti e sapere che il nostro sguardo non è uno sguardo totalizzante, garante della verità, ma è uno sguardo che può essere orientato con dei criteri. Quindi adesso salvaguardiamo magari questi tre, un criterio geografico, un criterio biografico e un criterio metaforico. Certe volte noi corriamo il rischio di pensare che alcuni luoghi in cui ci sono state dette delle cose o le abbiamo dette noi fossero dei luoghi casuali, cioè me l'ha detto quando eravamo in macchina, me l'ha detto quando eravamo al supermercato, gliel'ho detto quando eravamo al bar. Non è mai casuale, non è mai casuale. C'è un momento in cui sentiamo che le cose girano in modo da essere giuste per dire una cosa, anche quando la diciamo in quello che è visto da fuori sembrerebbe il momento più sbagliato. Pensiamoci bene, certe volte avevamo bisogno del momento più sbagliato per dire una cosa, allora lì possiamo andare in fondo e cercare di capire. Come Frank e April, guardate come è stato veramente controproducente parlarne in macchina di quella cosa. Hanno finito per fare l'esatto contrario di quello che cercavano, cioè nascondere i difetti della coppia, i problemi della coppia, i problemi di relazione e invece presentarsi al mondo con le vesti più sgargianti. Andate in fondo a questo e guardate se questo non è quello che facciamo esattamente tutti noi, cioè l'ultima delle cose che avremmo avuto bisogno di fare, l'ultima delle cose che ci sarebbe convenuta. Questo a un livello cosciente, perché forse attraverso questa scelta del luogo improprio, del momento improprio, stiamo in realtà dissotterrando quello che è il vero problema della nostra vita. Il problema è che poi a questa esplosione del nostro vero stato interno non segue un'attrettanto sapiente lettura. Il cinema serve a questo ragazzi, serve a leggere attraverso le vite di altri che sono finti, ma autentici, il nostro problema, la nostra notte, il nostro viaggio fuoristrada, il nostro litigio sotto i riflettori. Buon cinema e buona vita a tutti.